benvenuti benvenuti cari amici siamo inviti in questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like, iscrivervi il canale e iscrivervi anche il canale di tegram oggi naturalmente andremo a parlare di shiba inu ma non solo perché ho anche una sorpresa ok per voi shib army e per cui shiba inu oggi più 39 per cento sta devastando tutto il mondo cripto e vorrei ricordarvi ok una frase che scrissi a partire del 5 ottobre shibismo unica religione si esatto shibismo unica religione per cui andate a commentare sotto il video shibismo unica religione per farmi ok sentire la vostra presenza che shib army italia c'è detto questo in questo momento shiba undicesima andiamo a flippare terra luna e attenzione che la prossima sarà dogecoin questa è un po' la mia idea attualmente capitalizzazione di mercato di quasi 19 miliardi e pensate siamo vicino ai 4000 secondo me ve l'avevo già detto tempo fa che avremmo preso ok 4000 ed effettivamente oggi l'abbiamo proprio presi respinti andranno a vedere dopo la action però dogecoin è lì ok manca sostanzialmente un per due un po' meno ok e vi ho sempre detto secondo me shiba inu andrà a flippare dogecoin naturalmente non sono né consigli finanziari né di trading però secondo me questo antagonismo andrà a concludersi proprio con il flipping è la vittoria del shiba army ora andiamo a vedere che cosa sta succedendo su shib perché shib sta decollando e pensate abbiamo almeno 1.9 per cento la volta mai binance segnava 5000 ok all'epoca dell'istaggio come punto più alto però possiamo prendere anche tranquillamente i dati di coin gecko quindi potenzialmente siamo in price discovery in questo momento numero di holder 763 mila non è che siano aumentati tanto per cui sono stati o gli stessi holder che hanno acquistato ulteriormente shiba oppure le balene quello che sicuro è che shiba inu ok in particolare l'ecosistema sta sempre più crescendo e dal mio punto di vista ancora imminenti margini di crescita andiamo a vedere anche il perché potrebbe ancora crescere shiba inu naturalmente voi fate i vostri studi le vostre considerazioni e così via non basatevi su un youtube sbarbato detto questo che cosa ci manca ancora listing su robin hood in questo momento abbiamo 296 mila firme ne mancano circa 4000 non vedo perché non le prenderemo sicuramente prenderemo e quello che era successo con coinbase proprio le firme ok aiutarono il listing questo potrebbe avvenire su robin hood in particolare come vedete oramai siamo listati dappertutto in ogni dove e quindi sostanzialmente ci mancherebbe solo come grande exchange robin hood forse qualcos'altro non lo so detto questo per l'appunto siamo vicini alle firme andiamo a vedere quella che la action al momento di shiba inu perché siamo a 3900 sostanzialmente giornata di oggi abbiamo addirittura colpito i 4000 e siamo stati respinti ora che cosa mi aspetto potenzialmente secondo me andremo a passare i 4000 voglio vedere può avere una resistenza e dopo ragazzi sostanzialmente andiamo in price discovery ok quindi non vi posso dare dei target quando siete quando siamo in price discovery come avvenuto su bitcoin e ethereum la moneta potrebbe non dico andare all'infinito ma quasi perché per l'appunto siamo in price discovery ora secondo me dal mio punto di vista io teorizzo ok l'idea che shiba inu flippi dogecoin se penso che anche e questo antagonismo continuerà se penso che anche dogecoin sta sotto il 60 per cento potenzialmente un eventuali flip più ripartenze i dogecoin e comunque un shiba che sta davanti potremmo avere davanti almeno un 3x 3 barra 4x questa è la mia idea dopo vedremo anche un po come evolverà la bura però secondo me ancora uno zero lo possiamo andare a prendere naturalmente prendete il tutto con le pinze però so che molti di voi potrebbe cambiare la vita tutto questo quindi fate voi le vostre doverose considerazioni inoltre come sappiamo abbiamo secondo me quello che diventerà il più grande dex al mondo delle crypto cioè lo shiba swap naturalmente questa è la mia visione ve lo ricordo non è che sono affermazioni e in particolare ok abbiamo dimostrato come proprio per l'appunto gli nft ok su shiba shiboshis ora stanno avendo una forte implicazione in tutto l'ecosistema ci siamo fatti conoscere e secondo me anche gli nft sono il futuro e gli artisti oramai non dipingeranno più sostanzialmente ma le nuove generazioni ok le nuove generazioni artisti andranno a creare nft quindi se voi state sull'nft anche su monete di nft ve ne avevo già detto anche in un video come teta ax infiniti e tantissime altre chiamarie alcune non continueranno che la loro vita però secondo me questo è il futuro secondo me un shiboshi ok non lo so tra 1 2 anni 3 anni 5 anni non valerà un ethereum ma ne valerà molti ma molti di più detto questo abbiamo anche dovrebbe uscire shibarium ci stanno lavorando essenzialmente andremo a costituire quella che la nostra blockchain ok su shiba naturalmente andremo a eliminare le i costi delle fees di ethereum e potete pensare come questo potenzialmente che implicazioni potrebbe avere sullo shiba swap e potrebbe davvero diventare anche il primo dex al mondo perché saremo sostanzialmente decentralizzati ok da ethereum possiamo avere la nostra blockchain non dobbiamo spendere tutti quei soldi e pensate alla flusso di denaro che potrebbe arrivare su shib ora andiamo a vedere anche gli ish ok perché ha avuto anche lui una bella risposta siamo a 2000 14.4 per cento vi ricordo gli ish utility token sostanzialmente all'interno dell'ecosistema di shiba è o meno 55 per cento dagli ultramani penso che anche gli ish ok andrà usufruire della crescita di touch coin altro token molto importante è anche quello di bon che pensate stava addirittura 70 dollari e giorno ai listing successivamente è crollato io vi dico la verità ho fatto un po di spesa naturalmente sono nei consigli finanziari nei consigli trading però se l'ecosistema di shiba in particolare attraverso le hoshiborum ok shibarim scusate avrà un giorno futuro penso che bon avrà veramente una crescita esponenziale perché perché sostanzialmente abbiamo bisogno che di fare votazioni per attuare delle decisioni e come potrete fare queste votazioni attraverso il governance token chiamato bon vi ricordate saitama ve l'avevo citata ok nel mio ultimo video stava circa sui 1000 bar 2000 ora siamo quasi a 5000 quindi anche qui saitama essenzialmente è stata una nuova scoperta che sta andando e sta facendo skyrocketing e molti mi chiedete dove può arrivare saitama ragazzi non lo so assolutamente non prevedo il futuro però oggi ok vi voglio fare un regalino una mia nuova scoperta naturalmente questo investimento non è rischioso ma di più ci tengo a sottolinearlo siamo quasi livelli ok di shiba all'inizio ok siamo quasi a quei livelli quando la scopri questa coin si chiama mononoke inu ok dal nome assomiglia un pochino però io vi dico la verità ho allocato parte mio portafoglio ok su mononoke una bella parte ok perché ci credo anche in questa coin e per cui andiamo subito a vederla se volete acquistarla la trovate su uniswap so che molti di voi non sanno utilizzare uniswap perché per cui andate a formarvi naturalmente io offro anche un servizio ok di supporto per chi volesse ok imparare anche l'utilizzo dei decks e per cui se volete usufruirne e non perdere mai di qualche treno interessante ok vi consiglio di venirci a fare un salto per cui che cos'è mononoke andiamo subito a vedere cos'è mononoke allora diciamo che questo token ok anche lui è un meme token che si ispira a una storia di una serie tv giapponese pensate in cui sostanzialmente il personaggio è un venditore ok un venditore un po' particolare però che sa usare la spada e in giappone siamo penso non c'è scritto l'anno ma in quegli anni 1600 può essere gli samurai scusate non lo so di storia del giappone sono ignorante comunque a parte questo questo personaggio però una super dot ok sa usare la spada senza essersi mai allenato e quindi diciamo raggiunge il più grande livello di samurai all'interno intero giappone quindi secondo me questa cosa di mononoke in qualche modo come analogia filosofia sapete che io cerco sempre anche nel mondo cripto di vedere queste cose particolari potrebbe implicare che mononoke che potrebbe andare a prendere male un post su coin jaco pazzesco che naturalmente questo non potrebbe succedere per il fatto che abbia un contratto su ethereum ok mi dà maggiore confidence ok su questa coin quindi 5 per cento detenuta in marketing 4 per cento che sostanzialmente riprende ritornato agli holders e quindi all'interno di mononoke addirittura pensate hanno sviluppato un gioco che entrerà proprio e riguarderà questo samurai per cui guardiamoci questo piccolo video ok probabilmente io non c'ho l'audio vabbè comunque se volete andatevelo a vedere il numero di holder su mononoke è 11.900 quindi come sia una coin piccolissima e la sua market cap è di 185 milioni altrimenti vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo elite se volete con un costo di 50 euro è il gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di distrugge il bottone di like iscrivetevi canale e ci vediamo presto